Musica Buonasera dalla testata giornalistica sportiva testata giornalistica sportiva che questa sera vi offre una partita di grande richiamo internazionale partita di andata dei quarti di finale tra poco ci collegheremo con il nostro telecronista il nostro inviato Bruno Pizzul per la partita Ajax contro Parma come vi dicevo partita di andata dei quarti di finale di Coppa delle Coppe il match di ritorno si giocherà il 16 di marzo e così si va a concludere con la quinta squadra italiana che scende in campo ricapitolando rapidamente abbiamo visto il match fratricida con la vittoria del Cagliari il gol di Delivaldese, la vittoria contro la Juventus poi abbiamo visto ieri il pallido pareggio del Torino 0-0 peccato sarà molto difficile la partita di ritorno a Londra contro gli inglesi dell'Arsenal comunque mai disperare quando c'è una formazione grintosa e determinata come il Torino in Coppa Torino che spesso ha ribaltato situazioni poco favorevoli e poi ancora la vittoria grazie al genio di Savicevic affermazione per 2-1 nella Champions League con il Milan che è chiaramente in vantaggio già nel suo girone un pareggio contro l'Andelec poi 2 vittorie per la squadra allenata da Fabio Capello che così è a quota 5 è importante vincere il girone perché la prima del girone gioca contro la seconda dell'altro girone però la cosa importante è che la semifinale non è più semifinale di andata e ritorno ma si gioca una semifinale secca sul campo naturalmente della squadra che ha vinto il raggruppamento quindi per il Milan un'altra vittoria importante come vi dicevo 5 punti in classifica e quindi la speranza di vincere il girone per poter giocare poi la semifinale decisiva sul proprio campo naturalmente al Meazza all'ottaglio di San Siro e poi ancora la vittoria che ha rincuorato l'Inter in Coppa UEFA vittoria per 3-1 contro il Borussia di Dortmund una vittoria importante per la squadra allenata adesso da Giampiero Marini che doveva dare una dimostrazione di forza sicuramente l'ha data nella giornata in una delle giornate più importanti della sua stagione fino a questo momento abbastanza travagliato e adesso andiamoci a godere questo quarto di finale di fronte allo stadio dell'Ajax dove nessuna squadra italiana ha mai vinto in Coppa scende il Parma, il Parma con tre assenze importanti mi collegherei subito, sei in contatto con noi, con Bruno Pizzol Bruno ci sei? Sì, ci sono, non so se mi sentite, abbiamo avuto qualche problema sulla linea audio molto bene, siete collegati in diretta con lo stadio olimpico di Amsterdam dove il Parma sta per approntare nella gara d'andata dei quarti di finale di Coppa delle Coppe la prestigiosa formazione dell'Ajax si gioca in una serata molto, molto fredda c'è un vento teso Parma contro Ajax un Ajax che ha un albodoro straordinario ha vinto 23 volte il titolo di campione d'Olanda tre volte la Coppa dei Campioni, una volta la Coppa delle Coppe, una volta la Coppa UEFA due volte la Supercoppa Europea e poi anche la Coppa Intercontinentale il Parma gioca questa sera contro l'avversario più blasonato che finora abbia incontrato in campo internazionale sono parole di Nevio Scala e bisogna dire che questo atteso appuntamento interviene in un momento delicato per la formazione emiliana mancano infatti per squalifica ben tre giocatori importanti Benarrivo, Di Chiara e Minotti tra l'altro sono tre giocatori dello stesso reparto della difesa ma Scala non ha drammatizzato queste assenze e ha disegnato una formazione con il giovane Maltagliati ritenuto più idoneo alle giocate difensive rispetto al più esperto Balleri e naturalmente ha controbilanciato questa mossa schierando il famoso tridente sono fin dall'inizio contemporaneamente in campo Melli Aspriglia e Zola ma vi do la formazione delle squadre il Parma con Bucci, Maltagliati e Matrecano Pin, Apolloni e Sensini Melli, Brolin, Trippa, Zola Aspriglia all'ultimo momento un'assenza importante anche delle file dell'Ajax manca il giovane talento Overmars che è in panchina perché è influenzato Luis Van Gaal l'allenatore dell'Ajax schiera Van Dersaar Siloi e Blind Ulida Frank Deboer e Raycard Pettersen Davids Petterson Litmanen e Ronald Deboer sono in campo i due fratelli gemelli Deboer la direzione dell'incontro è affidata al signor Don della federazione inglese si gioca in un tifo assordante da tre anni l'Ajax non vince il campionato olandese ma questa sembra la stagione buona per rinvertire gli antichi allori l'Ajax infatti occupa una posizione in classifica di tutta tranquillità al comando della stessa vedete in sovrimpressione sui vostri schermi i sostituti dell'Ajax che sono Benzo Seedorf Van Den Brun Van Vossen e appunto Overmars tutto esaurito allo stadio olimpico 40.000 spettatori non è il campo di gioco nel quale si esibiscono di solito i famosi lanceri dell'Ajax quello è una stadio molto più piccolo capace di contenere appena 25.000 spettatori per le gare importanti l'Ajax emigra qui allo stadio olimpico ormai vecchio ma sempre abbastanza funzionale è in costruzione uno stadio nuovo di proprietà dell'Ajax che dovrebbe essere pronto tra qualche anno continuano ad armeggiare intanto i tecnici vicino alla mia panchina mentre vedete la formazione del Parma schierata per le foto di Rito vi ricordo che il Parma ha raggiunto questi quarti di finale di Coppa delle Coppe e vi ricordo anche che il Parma è la squadra defettrice del trofeo avendo eliminato via via gli svedesi del Degger Foros e gli israeliani del Maccadì l'Ajax ha superato Hlaiduk di Spalato per la Croazia e i turchi del Desictas di Istanbul ecco Philipp Don l'arbitro di questo artesissimo confronto con la vaglia numero 9 Pettersson giocatore svedese mentre questo è Tino Asprilla ulteriore elemento complicante per la squadra di Nevio Scala le condizioni del terreno di gioco è piovuto molto in questi giorni ad Amsterdam ed è piovuto anche fino a poco fa apparentemente il manto erboso è in buone condizioni faremo vedere però come si disimpegneranno i giocatori partiti intanto io chiedo ai tecnici di lasciare stare il monitor anche se non funziona pazienza è più importante vedere lo svolgimento della partita è Zola in possesso di palla la girata verso Krippa sul quale va Reikard in contrasto Frank Reikard eroe di tante battaglie con il Milan è tornato nella sua vecchia formazione l'Ajax e vi ricordo che l'Ajax è un'autentica cucina di talenti tant'è vero che nelle ultime due stagioni si è dispato di Berka, Pionk, Fink, Winter, Wanski però i tutti arrivati a squadra italiana il tocco all'indietro è stato di Zola per Pink che come vedete occupa la posizione di Libero sostituendo Minotti Pino Aspriglia il controllo non è felice e Reikard in possesso di palla scaraventa dalla parte opposta lunga la falcata Matrecano a proteggere il pallone aggira poi l'avversario che lo attacca e disimpegna bene a favore di Krippa che gli restituisce il pallone lunga la battuta di Matrecano per Melli che ha l'opportunità di giocare fin dall'inizio questa partita delicatissima e importante recupera il pallone l'Ajax il tocco all'indietro è a favore del difensore centrale Blind che ora effettua il suggerimento in profondità ecco Ronald De Boer il passaggio è per Pettersson fermato poi riconquistano la palla gli olandesi ecco Frank De Boer quindi il lancio di Blind la palla che carabola la parte opposta Matrecano ora crippa ancora verso Matrecano Zola disimpegna l'indietro palla data verso Brolin poi distata su Sexini il cui lancio in profondità immediatamente ribattuto Ronald De Boer ancora Ronald De Boer punta mal tagliati poi effettua il suggerimento su Reinhard parte il lancio morbido e preciso di Reinhard indirizzato su Pettersson giocatore danese che però non aggancia sono molti i giovani interessanti nelle file dell'Ajax questo Pettersson danese ha 21 anni il numero 8 Davids ne ha 20 di anni giovane anche Littmannen talento finlandese con la maglia numero 10 non gioco a Overmars un altro giovanissimo appena ventenne si è rimessa per il Parma con pallone indirizzato direttamente su Bucci sono presenti circa 800 tifosi del Parma il colpo di testa intanto di Ronald De Boer manovra il pallone Pettersson lo gira lì dietro su Davids che smista in direzione del capitano Blind sempre Blind in possesso di palla ecco Reinhard gira su Siloi avanza Siloi parte il suo lancio centrale ed è disturbata l'azione di Kripp a centrocampo con calcio di punizione a favore del Parma si gioca da 3 minuti e mezzo allo stadio olimpico di Amsterdam 0-0 il risultato tra Parma e Ajax e Melli in possesso di palla viene fermato poi il tocco è di Zola a favore ancora di Krippa Melli ha un buon aggancio Melli poi viene attaccato da Pettersson serie di rimpalli e poi ancora Krippa cambia gioco Krippa servendo Aspriglia si gira bene Aspriglia ottima azione di Aspriglia che effettua questo traversone controllato con qualche difficoltà dalla retroguardia il rinvio è stato di Blindor in azione Pettersson quindi Ulida largo da quest'altra parte Davids buono l'intervento d'anticipo da parte di Pinn che si sgancia il libero della partita il suo ruolo è quello di centrocampista ecco intanto il pallone riconquistato dall'Ajax giocato ora da Littmannen a favore di Reikard ancora Reikard che ha ricevuto da Pettersson il tocco all'indietro a favore di Ulida che fa venire in avanti Frank Deboer lo aspetta Zola combinazione con il fratello Ronald Deboer a limite ottimo l'intervento in copertura di Sensini poi il buon acancio di Melli che viene però intercettato immediatamente da Davids buon ritmo in queste fasi iniziali Ulida palla larga a favore di Pettersson va Pettersson si allunga un po' il pallone lo ferma Brolin in pallo laterale ecco la rimessa a favore di Ulida giocatore di origine marocchina ma naturalizzato olandese Blind a centro campo ancora l'Ajax Frank Deboer lunghissimo il traversone c'è il conto di testa l'indietro arriva per la battuta Reikard pallalda c'è sempre un vento teso e forte che prende d'infilata lo stadio olimpico il colpo di testa di Blind quest'altro di Brolin la palla per Davids il suggerimento per Ronald Deboer il tocco lì dietro ancora Davids ora Frank Deboer Davids sull'Ajax sulla sua ala il controllo irregolare difettoso da parte di Ronald Deboer il sostituto dell'attesa Overmars l'intervento di Frank Deboer il pallone buono per Littmanen poi David ora Ulida largo per Reikard ancora più largo a favore di Pettersen Reikard c'è un grontifo con quello indietro a favore di Blind difensore centrale preciso il disimpegno a favore di Ulida disegna buone trame di gioco ecco il l'Ajax ecco il traversone e c'è poi l'ultimo colpo di testa da parte di Pettersen con palla che viene bloccata da Bucci rivediamo il lungo cross primo colpo di testa di Pettersen e poi quest'altro di Pettersen sono due giocatori quasi omonimi Pettersen e Pettersen quando la buona giocata di David il passaggio per Ulida gran ritmo impresso dai lanceri dell'Ajax in queste battute iniziali Reikard David allunga la falcata gira largo a favore di Pettersen la conclusione ancora di Frank Reikard direttamente a fondo campo sente molto naturalmente la partita qui vedete la pacchina del Parma ho visto il quadrato Zoratto troppo lungo per Zola pronto alla rimessa Ulida lascia poi l'incarico a Siloi giocatore esperto questo trettenne con molte presenze nazionale palla toccata da Pettersen poi da Reikard ancora Siloi lo disturba Zola gioca da nove minuti nel corso del primo tempo 0-0 avvio vibrante da parte del Ajax ecco Davids in azione largo a cercare Ronald Deboer lo ferma addirittura Asprilla buono il movimento di Ronald Deboer il suo tentativo di triangolo Sensini e Asprilla che non aggancia Frank Deboer Ulida Frank Deboer Siloi dalla parte opposta Parma costretto un po' a subire l'iniziativa avversaria in queste battute iniziali ancora Frank Deboer Davids giocatore molto promettente Asprilla Brolit Cercazzola fiude Reikard sulla palla Siloi suggerimento per Pettersen combinazione con Reikard ancora Pettersen ora Ulida Frank Deboer dentro a cercare Davids Davids va sul fondo effetto questa traversione colpo di testa di Apolloni poi la palla riconquistata ancora da Reikard giocata larga a favore di Ronald Deboer che punta il diretto avversario poi scaraventa ancora un cross al centro inquadrato lo svedese Pettersen rivediamo il cross di Roland Deboer e il grande stacco di Pettersen che però non può calibrare bene la traiettoria del pallone lo stacco di Siloi la palla giocata ora dal Parma Zola Vanzola molto bene fra tre avversari poi effetto il suggerimento verso Asprilla in leggero contrattempo passaggio all'indietro con calma Van Bersaar 23enne portiere del Ajax disimpegna sui compagni che però hanno qualche difficoltà vedete ad elaborare la manovra di contrattacco sul pallone ora Pin al rilancio e poi il pallone è messo in pallo laterale da Pettersen tra i pali dell'Ajax Van Bersaar che ha preso il posto del più esperto Menzo mentre vedete il tecnico Scala mal tagliati bello il lancio a favore proprio di mal tagliati di Brolin va mal tagliati e cerca la soluzione personale viene però fermato e c'è ora Ulida che percetta grande battaglia a centrocampo ancora mal tagliati buon pallone per Melli e se lo allunga Melli il pallone stesso termina a fondo campo Fragmento cerca spessissimo il fratello gemello tocca all'indietro per David poi a centro campo l'intervento di Brolin, quello di Reikard la palla che carambola su Zola Zola che riesce ad evitare due avversari effettua il suggerimento per Espriglia buon lavoro di Espriglia che poi non può coordinarsi perde il controllo del pallone Fran de Boer Ulida Reikard Pettersson Reikard Ulida Ronald de Boer punta mal tagliati effettua il suggerimento per Pettersson il passaggio di ritorno si chiudono i difensori del parma e il pallone rimpalla Subucci pericolosissima la combinazione Ronald de Boer Pettersson colpo di testa di Fran de Boer Blind ora Reikard Siloi Blind Davids Roland de Boer Pettersson Davids Poi fallo su Lippmann Pallo Pallo Isolatissimo in avanti Melli anticipato da Ulida poi c'è questo lungo rilancio senza problemi Bucci siamo giunti intanto al quattordicesimo del primo tempo risultato qui allo stadio olimpico di Amsterdam fra Ajax e Parma e di 0 a 0 Pin Sensini con il sinistro un pallone sul quale pronto ad uscire Van der Sar il suo rilancio però direttamente in fallo laterale il lungo lancio in profondità lo scatto di Aspriglia il suo traversone la presa di Van der Sar Guizzo di Aspriglia palla affidata a Fran de Boer Ulida gran lavoratore del centro campo Siloi parte il lungo lancio l'arresto da parte di Paltagliati la combinazione con Brolin il passaggio lungo il tocco lì dietro di Ulida per il portiere che rischia il passaggio su Fran de Boer da questi a Blit Reikard Davids Ronald de Boer marcato stretto da Paltagliati molto vivace buono il suo controllo vanno al raddoppio i giocatori del Parma sempre de Boer tocco lì dietro al fratello Frank la palla è ora per Blind questo controllo di Pettersson limite lo svedese si gira tocca su Reikard largo per Pettersson ancora in profondità grande azione del Ajax e sulla linea di porta è Apolloni che respinge il pallone assalto ancora dell'Ajax con conclusione a fondo campo grandissima azione dell'Ajax che sulla destra ha tagliato letteralmente a fette la retroguardia del Parma rivedete la combinazione il tocco di Littmannen il guizzo di Pettersson e il tiro di Pettersson ribattuto da Apolloni sulla linea 17 minuti nel corso del primo tempo risultato di 0 a 0 ma quando attacca in forze l'Ajax è davvero pericoloso ora si prova il Parma con Aspriglia sulla sinistra va Aspriglia con su di lui Pettersson e chiude in angolo primo tiro della bandierina a favore del Parma fino a Aspriglia gara molto generosa in queste battute iniziali lo abbiamo visto spesso anche all'indietro mentre va a effettuare il tiro d'angolo Zola parabola arcuata sfiora di testa Pettersson e va a riconquistare il pallone lo batte molto lungo c'è il colpo di testa di Pinn controllo di mal tagliati il pallone in profondità giocato da Fran de Boer a favore di Ulida da questi a Siloi che anticipa millimetricamente Zola riceve il passaggio di ritorno pasticcia e Aspriglia si padronisce del pallone lo gioca su Zola che incespica sul terreno fa il tempo a recuperare la coordinazione scaraventa in mezzo un traversone sul quale Siloi è pronto alla ribattuta ed ecco in azione Pettersson giocatore molto interessante fa la giocata su Reikard Siloi finge il passaggio su Frank de Boer e poi gioca il pallone invece su Blind ancora Blind Frank de Boer lunghissimo il lancio Littmannen poi a Pollone molto pericoloso di testa Littmannen Davids va Davids punta Brolin molto veloce di gambe Davids è costretto però ad allargarsi non lo molla Brolin e lo ferma in fallo laterale bella partita molto intensa sofferta anche in panchina Davids il suo cross pallone spiorato poi messo fuori da Matrecano giocato a favore di Zola ecco che si sgancia velocissimo Matrecano va Matrecano e viene atterrato calcio di punizione il pallo di Reikard vedete Pettersen che copre tutta la fascia destra entra spesso in collaborazione con Reikard mentre si rialza Matrecano e il pallo non è di Reikard è proprio di Pettersen successivamente è entrato anche Reikard però il primo impatto falloso era stato di Pettersen sono Zola e Aspriglia sul pallone parte Aspriglia c'è una deviazione e il pallone termina fuori millimetricamente azione goal anche questa del Parma rivediamo la conclusione di Aspriglia c'è una deviazione e poi c'è il colpo di testa di Melli che fa terminare il pallone a lato di pochissimo riparte l'Ajax bella partita Fran de Boer Davids Ulida Lidmanen Reikard Krippa Aspriglia va Aspriglia lo ferma Reikard per un attimo poi Aspriglia ruba il pallone ancora i due possibilità per il Parma Zola che entra in area di vigore si allunga il pallone e il pallone stesso termina a fondo campo chiede l'angolo Krippa non è del medesimo avviso l'arbitro Ajax pericolosissimo ma anche il Parma quando si propone in avanti è molto pericoloso vedete in azione Krippa Krippa che viene fermato con la palla a fondo campo il rinvio di Bucci il conto di testa di Blind il suggerimento per Fran de Boer il lancio su Roland de Boer combinazione ancora tra i due gemelli centralmente a favore di Ulida a turno si sganciano Ulida e Blind Roland de Boer profondo Bucci 22 minuti di gioco nel corso del primo tempo 0-0 ma gara ricchissima di emozioni il corpo di testa di Silo il tocco di Reikard il suggerimento di Ulida il lavoro di Pettersson Fran de Boer Roland de Boer Ulida ecco in avanti Blind ora Reikard cerca Liedmannen protegge il pallone a Trecano e lo lascia a spilare a fondo campo il giocatore che vedete inquadrato è Pettersson 21enne danese e questo è il tecnico l'organatore dell'Ajax Mangal l'Ajax come vi ho detto è una formazione di grandissimo prestigio che gode anche di buona salute societaria in forza della politica dei giovani che fa riesce a vendere moltissimi giocatori Rivaio pregiato quello dell'Ajax ora c'è ancora un'azione irregolare ai danni di Crippa stati i primi minuti della partita davvero difficili per il Parma con l'Ajax che si è scarventato in avanti con grandissima determinazione Brolin disturbato il pallone però viene giocato ora con calma da Apolloni troppo lungo il suo lancio per Aspria Aspria ha già fatto vedere alcune cose e grese il giocatore è assolutamente imprevedibile Reikard la battuta lunga di Siloi il colpo di testa di Sensini quest'altro di Reikard il pallone giocato da Pettersson sul quale l'arbitro inglese Don vedeva una irregolarità gran ritmo fino a questo momento una gara corretta Ulida fa venire in avanti Fran de Boer palla dentro copre bene Apolloni che si sgancia e tenta il suggerimento per Melli che è il riferimento più avanzato del Parma Davids Ulida Reikard Reikard adesso poi effettua un suggerimento verso Littmannen avrebbe anche potuto tentare il tiro palla troppo lunga Zola braccato da Fran de Boer fa sempre Zola ecco il passaggio a favore di Sensini con il destro Sensini a cercare la galoppata di Matrecano che non fa in tempo a giungere sul pallone siamo giunti intanto al 25esimo del primo tempo un primo tempo vivacissimo fino a questo momento 0-0 il risultato Petterson vedete come parte da lontano lancio su Petterson il fallo di Apolloni Apolloni questa sera è il capitano del Parma Parma che denuncia le assenze di tre difensori benarrivo di Chiara e Minotti che è appunto il capitano formalmente di questa squadra intanto Roland de Boer Littmannen Reikard deviazione angolo molto spesso la manovra del Ajax appare preordinata a far arrivare al tiro Reikard stavolta la conclusione era pericolosa c'è stata una deviazione calcio d'angolo Luiste Van Gaal dalla bandierina Petterson direttamente a fondo canto Bucci a rinvio lunghissima Siloi va a chiudere Ping Krippa ancora Krippa fa caso poi subentra Melli Brolin Aspriglia Melli grande azione del Parma Melli si incrocia con Aspriglia va Aspriglia Aspriglia tiro e la palla è fuori grandissima azione del Parma con Aspriglia andato alla conclusione dopo un'ottima combinazione con Melli rivediamo vedete Aspriglia eccolo va al tiro e il pallone termina fuori non di molto attacca in prevalenza l'Ajax è pericoloso il Parma in contropiede la partita è godibilissima Roland de Boer maltagliati Zola Brolin profondo Scartamelli è in vantaggio Blind tocca lì dietro al portiere Van der Sar Ulida ancora Van der Sar Siloi Blind Fran de Boer buon suggerimento per Davids tocco centrale a favore di Ulida triangolo il tocco di ritorno di Pettersson è troppo profondo Bucci all'immediato rilancio tocco di testa di Fran de Boer poi di Ulida ora di Brolin Aspriglia attaccato è fermato Roland de Boer Blind Ulida gira un buon pallone su Reikard largo a cercare Pettersson buon lavoro di Pettersson che converge cerca ora una soluzione effettua il suggerimento profondo a Polloni palla ancora fuori per Reikard tocco a favore di Ulida largo per David sinistro respinto arriva poi Malcagliate Brolin palla fuori è rimessa del Parma si avviciniamo alla mezz'ora del gioco nel corso del primo tempo risultato di 0 a 0 la partita è sicuramente apprezzabile per ritmo e per contenuti Blind Pin con calma palla giocata da Fran de Boer Pettersson Ulida Reikard dentro a cercare Lindmanen la buona rovesciata da parte di Matre Cano e il lancio a cercare Melli che è in posizione regolare da parte di Krippa Sandro Melli naturalmente ci mette tutto l'impegno difficile stagione la sua più volte il ragazzo si è lamentato perché Scala lo utilizza con molta parsimonia attenzione ora c'è questo pallone e c'è Pettersson che va alla conclusione Bucci due volte miracolosamente allontana poi Krippa Brolin contropiede del Parma Asprilla Asprilla e Siloi va Asprilla lo accompagna Siloi Guizzo di Asprilla calcio d'angolo no ultimo tocco di Asprilla che lamenta la decisione arbitrale a lui avversa ma in precedenza il l'Ajax era dato vicinissimo al gol vedete questa penetrazione da parte di Pettersson la grandissima respinta di Bucci che poi anticipa anche il tentativo di Pettersson Reikard pericolosissimo Pettersson il giocatore ora in possesso di palla così come Nick Manen sul quale c'è stato pallo di Sensini calcio di punizione battuto da Frecchi Reikard De Boer ribattuto il suo tentativo Nick Manen cerca il triangolo con Pettersson lunghissimo cross di quest'ultimo colpo di testa di Zola a coprire alimenta ora l'azione dell'Ajax De Boer Ulida palla riconquistata da Krippa giocata su Brolin è una bellissima partita lancio e forse non c'era stavolta il fuorigioco vedete Aspriglia che si lamenta plantealmente della decisione a termo arbitrale inglese vorremmo rivedere questa azione le immagini sono assicurate da una squadra di ripresa della televisione olandese ma sono ad uso della Rai palla per Siloi ora ancora un lancio profondo a cercare lo scatto di Petersen che stavolta non ci arriva ordina il lavoro dell'equipe tecnica Luigi Menichelli siamo giunti intanto al trentatresimo del primo tempo il risultato è di 0 a 0 ripeto che si gioca allo stadio olimpico di Amsterdam il quarto di finale gara d'andata di Coppa delle Coppe e ora il Parma in avanti con Zola Zola in area fate subito il cross Aspriglia a sinistra e il portiere riesce con la punta delle dita a deviare in calcio d'angolo ancora una splendida azione da parte del Parma con conclusione di Aspriglia vedete Zola alza la testa vede Aspriglia libera dalla parte opposta lo serve si coordina bene Tino e arriva proprio all'ultimo istante il portiere ora Brolin da lontano para ancora Van der Sar bellissima partita Fran de Boer Davids Ulida Reikard Pettersson anticipato Pettersson con palla che termina fuori e rimessa del Parma Aspriglia Reikard Blin poi passaggio lì dietro a Bucci che deve riviare con il piede direttamente in fallo laterale la rimessa la rimessa di Davids per Fran de Boer allora la fidata Pettersson buona l'uscita da parte di Apollone poi Roma il pallone ancora Pettersson lo gioca lì dietro su Reikard parte il traversone e De Zola il più lesto ai padronessi del pallone corpo a corpo poi con Davids subentra anche Roland de Boer che alla fine ruba il pallone e poi c'è il tocco all'indietro di Mal Tagliati con questo lungo rinvio Fran de Boer la combinazione centrale con Blind applausi del pubblico pallalunga svirgolata da Pollone recuperata però a tempo da Matrecano giocata su Crippa Reikard lo ferma viene in avanti Ulida Ulida la conclusione Bucci in due tempi ed è una partita in cui fioccano le emozioni grande conclusione di Ulida dalla distanza vedete il suo gran lavoro di preparazione la sua botta piena Bucci che prima resta poi blocca 36 minuti di gioco nel corso del primo tempo 0-0 il risultato ancora un lunghissimo lancio il colpo di testa di Siloi la palla per Reikard vedete che il fondo del terreno è molto insidioso di tanto in tanto il pallone si impantana letteralmente non ribalta Fran de Boer Roland de Boer buono il tocco esterno a favore di Davids Fran de Boer Siloi Pettersen Aspriglia su di lui Siloi Ulida in combinazione con Reikard ancora Ulida palla per Littmanen poi esce Krippa lo disturba Ulida lascia correre l'arbitro tipica direzione di scuola inglese buona però finora palla per Davids perviene pochissimo l'arbitro sempre Davids buono il lavoro introversione pericolosissima e alla fine Broling Galottana Blind Siloi Roland de Boer lungo a cercare il fratello riesce a girare il traversone al centro si accartoccia e blocca in presa Bucci Sensini Zola Sensini Pin che si sgancia dalla posizione di Libero il tocco è per Melli colpo di tacco ancora a favore di Pin Pin effettua il lancio in proponità chiuso in fallo laterale da Fran de Boer Maltagliati Melli Maltagliati buona l'azione va Maltagliati a effettuare immediato il cross il colpo di testa di Espriglia la palla per Melli fermato alimenta ora l'azione Matrecano Zola ancora Maltagliati parte un nuovo attraversione il colpo di testa di Broling nella parata di Van der Sar tutto molto bello e in effetti è una partita godibilissima rivediamo Maltagliati e osservate l'impatto molto bello di Brolin la presa da parte di Van der Sar Fran de Boer Roland de Boer lo aspetta Maltagliati ma centralmente a favore di Ulida Reikard ecco il solito schema con la battuta di Reikard vedete frequentissimamente l'Ajax accompagna l'azione sulla fascia sinistra per poi spostarla gradualmente verso il centro destra dove sbuca Reikard per la battuta dalla lunga distanza c'è un pallone ora diventato buono per il Parva il tocco al centro viene intercettato poi aspriglia due avversari su di lui e riparte velocissimo l'Ajax Pettersson palla fuori rientra intanto Matrecano che era stato protagonista dell'affondo sulla sinistra mentre avanza Blind ora Siloi Pin Aspria tocco a cercare Melli Melli anticipato Reikard Ulida Davids Frank Deboe Pettersson buono il suggerimento per Davids è un giocatore molto abile nel dribbling vedete come è saltato Zola va sul fondo effetto del traversone e c'è un groviglio di uomini in area Reikard e Pettersson sono arrivati contemporaneamente sul pallone rivediamo l'ottimo traversone da parte di Davids vedete che sul pallone arrivano due giocatori dell'Ajax e un difensore del Parma Bucci il colpo di testa di De Boer ora Roland De Boer in combinazione con Davids bravissimo questo ventenne Ranza ora il capitano Blind Apolloni tocca all'indietro a Ping mantiene la calma poi è costretto a dare a Bucci il rilancio il colpo di testa di Davids Lindmanen sul pallone viene fermato ancora da Ping che con calma cede a Brolin parte il lancio di Brolin su Espriglia il solito controllo di Espriglia il pallone è lanciato su Melli che è in offside 42esimo del primo tempo 0 a 0 ma non è partita da 0 a 0 molte le occasioni da gol da una parte e dall'altra avanza Ulida Reikard Petterson stavolta è giudicato e regolare l'intervento di Apolloni uno dei pochi interventi dell'arbitro inglese che ammonisce Apolloni ammonizione per Apolloni come vi dicevo dirige all'inglese proprio l'arbitro di questa sera interviene pochissimo e soprattutto quando ritiene sleale l'intervento e tale deve essere stata la sua interpretazione in questo caso perché ha estratto il cartellino giallo ad ammonire il capitano del Parma serie di finte la conclusione alta rivediamo la serie di finte con pallone che termina non di molto alto sulla conclusione di Petters Aspriglia viene fermato da Siloi avete sentito il boato con il quale il pubblico ha accompagnato l'intervento difensivo di Siloi perché evidentemente ha già avuto modo di verificare la pericolosità di Aspriglia a parte la fama che lo aveva preceduto qui in Olanda ancora Aspriglia tocco largo a favore di Matrecano e Matrecano effettua un strano tiro probabilmente tendeva fare il cross ha colpito male ma tutto questo ci porta al quarantaquattresimo del primo tempo di una partita di alta intensità emotiva visto come si consulta nervosamente il cronometro a Polloni fuori ma su David giocatore molto bravo Ulida Siloi Pettersen verso Ulida ha spegnato il passaggio e Zola effettua il break va Zola saltato un avversario messo giù e c'è ammonizione anche in questo caso e usa lo stesso metro l'arbitro inglese ammonito blind vedete e in effetti l'intervento era effettamente irregolare e sleale anche effettuato sui piedi dell'avversario dopo che il pallone era già passato dalla lunga distanza dall'impressione di voler battere a spriglia c'è anche Zola nei pressi del pallone parte Zola il tiro è pericoloso in due tempi Van der Sar si salva era in agguato Belli fischio finale due squadre veramente belle questa è l'ultima delle tante occasioni del primo tempo 0 a 0 a metà gara una gara degnissima che sta rispettando appieno quelle che erano le premesse e le promesse della vigilia rivediamo ancora l'intervento in due tempi di Van der Sar sulla battuta dalla lunga distanza effettuata dal giocatore che vedete inquadrato Gianfranco Zola mentre dalla precedente inquadratura abbiamo potuto verificare come era vicinissimo Belli sulla mancata prima presa di Van der Sar molte le occasioni da gol da una parte e dall'altra partita bellissima naturalmente attendiamo con trepidazione il secondo tempo per ora ricordandovi che durante l'intervallo vi proporremo dallo studio le immagini più interessanti di questo vivacissimo primo tempo fino allo studio per una breve serie di suggerimenti commerciali Linea Roma signore dell'ascolto signore dell'ascolto siete collegati di nuovo in diretta con lo stadio olimpico di Amsterdam dove sta per avere inizio il secondo tempo della partita tra l'Ajax e il Parma valida quale gara d'andata dei quarti di finale di Coppa delle Coppe 0 a 0 al termine del primo tempo un primo tempo molto ben giocato dalle due formazioni con una prevalenza sotto il profilo della iniziativa e dell'intensità d'azione dell'Ajax ma con delle risposte ficcanti ed efficacissime del Parma parecchie occasioni da gol da una parte dall'altra così come abbiamo avuto l'opportunità di verificare anche attraverso la sintesi che vi è stata proposta dagli studi di Roma e come è data da Jacopo Volpi 0 a 0 dunque non ci sono state sostituzioni durante l'intervallo ecco in azione ora Patricano Brolin e lì a Spriglia in contrattempo la chiusura è di Fran de Boer il suggerimento è su Roland de Boer il tocco centrale per Ulida da questi a Reikard parte il lancio di quest'ultimo e c'è calcio di punizione calcio di punizione per il fallo subito da Littmanen ad opera del suo marcatore Sensini anche Littmanen 22enne finlandese è giocatore di grosse possibilità va formandosi la barriera del Sparma ci sono Fran de Boer e Reikard in posizione di tiro poi batte invece a sorpresa Blind con palla che si spegne a fondo campo e con l'autore del tiro il capitano difensore centrale dell'Ajax Blind rivediamo il suo tiro è abbastanza ben calibrato e comunque termina a fondo campo sale altissimo l'urlo dei 40.000 del stadio olimpico di Amsterdam c'è un fallo di Aspriglia falcio di punizione battuto a favore di Siloi lo aspetta Cripp passaggio avviene su Ulida largo a Frank de Boer Roland de Boer fa filtrare il pallone in profondità ma è pronto Brolin lancio centrale la ribattuta di Blind Zola ancora lungo si coordina Siloi riesce a colpire in testa poi Blind Aspriglia su di lui il rimpallo il pallone che carabola all'indietro e c'è la finta da parte di Frank de Boer giocata molto efficace ma pericolosa ancora l'Ajax lungo lancio in profondità Bucci al limite appostato con grande scelta di tempo ha guadagnato spazio portandosi al limite della propria area di rigore a bloccare il suggerimento sul suo rilancio il cuorigioco di Aspriglia Reikard Pettersen Siloi Blind Blindmanen Reikard Ulida pasticcia un po' Ulida riesce però a dare ugualmente a Lindmanen è molto bravo l'arbitro qui a non sanzionare l'intervento di Apolloni che era corretto successivamente calcio di punizione a favore del Parma buona la direzione del signor Don inglese lascia correre parecchio la partita non merita di essere spezzettata Matrecano riceve ancora da pin va Matrecano e viene ancora spostato irregolarmente calcio di punizione il Parma per le assenze più volte citate dei suoi tre difensori Minotti il libero e capitano e i due esterni Benarrivo e Minotti ha dovuto improvvisare non soltanto la difesa ma anche il modulo di gioco consueto visto che frequentemente attacca proprio con i suoi due difensori esterni Matagliati e Matrecano di tanto in tanto anche in questa partita si sono portati in avanti ma naturalmente non hanno né le caratteristiche tecnico-tattiche né l'abitudine a giocare come Benarrivo e dichiara del resto poi Scala ha preferito proprio Matagliati al più collaudato Dalleri proprio per poter schierare il tridente in attacco e dare un pizzico di maggiore copertura alla difesa attenzione Bucci a questi gesti con un arbitro inglese si rischia molto colpo di testa di Melli e Spriglia ancora verso Melli leggermente alto Blin Reikard Blin Reikard l'esterno Blin difende bene il pallone lo gioca su Melli che gira da quest'altra parte a favore di Krippa arriva Krippa Krippa termina a terra in gara e di rigore questa è un'azione da rivedere avanza intanto Ulida Davids Roland De Boer punta maltagliati tocco centrale la copertura di Brolin la palla è per Pinn disturbato da Petterson a terra Pinn non c'è fallo mentre qui rivediamo l'intervento di Blin su Krippa probabilmente c'è stato anche un tocco però forse non c'erano gli estremi per il rigore ha mancato la battuta di prima Krippa che sicuramente è stato toccato dall'avversario ma non mi sentirei di censurare del tutto l'operato dell'arbitro mentre Brolin attende di battere questo calcio di punizione a favore del Parma si gioca da 6 minuti e mezzo nel corso del secondo testo a Spriglia a rincorrere il pallone e a raggiungere lo gioca all'indietro a favore di Matrecano va Matrecano a operare questo traversone l'ultimo rilancio di Ulida poi ancora Brolin che gira bene per Zola va Zola e il pallone resta ancora in gioco c'è questo traversone tripparesta e tira e para Van Der Saro parte da lontano De Boer in combinazione con il fratello Frank il tocco centrale su Blind l'appoggio per Siloio Petterson Sensini Pim Brolin Maltagliati la finta molto bella passaggio per Brolin tocco esterno a servire Zola la finta e lancio profondo per lo scatto da parte di Maltagliati anticipato da Fran de Boer che tocca indietro al portiere Van Der Sar da questi a Siloio tanto il vento freddo del mare del nord si può sentire a centro campo c'è norma del vantaggio dice l'arbitro Blind Fran de Boer scatta in profondità David il suggerimento su Petterson il tocco esterno su Reikard ancora largo a favore di Petterson 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 va sul fondo e poi termina giù strattonato da Matrecano calcio di punizione insidiosissima questa Petterson è un'altra 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 c'è tutti degli urlacci in campo da una parte dall'altra Petterson a effettuare questo cross il colpo di testa che si spegne di poco a fondo campo effettuato da Littmannen grande stacco di Littmannen rivediamo il cross di Petterson lo stacco di Littmannen palla che sorvola la traversa e si spegne a fondo campo Bucci Astria Fran de Boer Davids Ulida Blind Siloi si ferma Crepa Petterson Reikard Blind Reikard dentro buona la copertura di Sensini poi meglio ora Spriglia appoggia Brolin Brolin tenta il passaggio di ritorno ma viene chiuso da Blind poi a Spriglia fermato da Fran de Boer c'è questo rilancio lungo ancora Sensini poi l'intervento dell'arbitro a ravvisare una irregolarità su Brolin batte Zola intercetta Blind avanza Blind la palla è per Littmannen Ulida Reikard profondo Matrecano va rilancio preciso su Crippa due avversari su di lui deve cercare una soluzione Crippa e alla fine la rimessa è del parco la effettua Matrecano su Bucci bravissimo nel corso del primo tempo almeno in due circostanze 11 minuti della ripresa 0 a 0 il risultato il colpo di testa di Davids la palla fuori per la rimessa di maltagliati indirizzata verso Brolin pin in profondità ancora Davids De Boer fermato da Sbrilla Zola Blind lo intercetta tocca ancora su De Boer nuovamente Zola si lotta candidamente a centrocampo Brolin buon lavoro poi il pallone carambola su Crippa ancora una carambola alla fine Pin che rilancia lungo il pallone Siloi Blin Ulida Fran De Boer Lidmanen Ulida Davids fermato riconquista il pallone lo stesso Davids lasciando però che termini in fallo laterale il tocco è per Frank De Boer il suggerimento centrale per Blind ancora Siloi Blind non gradisce il pubblico questa serie di passaggi laterali dell'Ajax che tuttavia non trova spazio e ora è costretto sul suggerimento in profondità verso Pettersen in angolo Matrecano 13 minuti della ripresa e Pettersen che batte dalla bandierina temibilissimi colpitori di testa dell'Ajax soprattutto Lidmanen Pettersen Bucci il pallone è suo lungo Aspriglia e David arriva Aspriglia finta micidiale ancora Aspriglia con la molla però Davids Brolin effettua questo lungo lancio in avanti De Zola ora in possesso di palla e non trova il suggerimento Ulida Reinhard De Boer tutto spostato da questa parte Pettersen Crippa prova giù fallo di De Boer ci avviciniamo al quarto d'ora di gioco per la ripresa non si sblocca lo 0-0 iniziale ma la partita resta molto intensa alla battuta Crippa verso Aspriglia c'è il colpo di testa di De Boer il controllo di Ulida il suggerimento su Davids il cambio a favore di Reinhard Reinhard tocca su Pettersen anticipato ancora Reinhard a centrocampo buono il tocco di Brolin per Crippa Crippa punta Siloi poi si ferma da ancora Brolin ottima partita di Brolin palla per Melli 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 al limite in controtempo Colton Maltagliati che poi non può controllare 0-0 come vedete tra Ajax e Parma una partita degnissima Vangao a dare le sue indicazioni la palla per Ulida Reinhard si ferma Zola lancio centrale colpo di testa di Apollone quest'altro di Deniz quindi Littmannen Apollone Bing bravissimo Zola contropiede del Parma Zola Zola si avvicina all'area di rigore converge prova il destro ha tentato di dare il giro alla palla mirando il paletto più lontano palla fuori però Parma sempre vivacissimo Siloi Ulida Reinhard Siloi Reinhard Ulida a cercare Davids lo insegue Zola palla fuori rimessa per l'Ajax l'effetto allo stesso Davids all'indietro su Frank De Boer Blind cerca di far uscire il Parma l'Ajax l'Ajax l'uncolancio in profondità e con il ginocchio mette in angolo mal tagliati ad evitare lo scatto di Roland de Boer e dello stesso Roland de Boer lo vedete inquadrato che sta per battere dalla bandierina attende che si portino in avanti i saltatori tra cui il fratello il tocco invece su Ulida vai in profondità Ulida mette in mezzo un pallone intercettato dai difensori del Parma ora è Brolin in azione il lancio leggermente troppo lungo per Zola la ribattuta trova pronto Bucci che esce dalla propria area e con calma effettua il lungo rilancio peraltro il pallo laterale sostituzione nelle file dell'Ajax esce il numero 7 Pettersen ed entra Overmars altro giovanissimo lo vedete inquadrato definito un gran talento Overmars al posto di Pettersen non ha giocato male Pettersen tutt'altro ma non ha giocato male nemmeno Roland De Boer che era il sostituto naturale di Overmars Van Gaal ha preferito lasciare in campo Roland De Boer e inserire Overmars anticipato Melli il colpo di testa di Davids la palla data a Blind da questi a Ulida Reikard tocco di dietro di Roland De Boer ora Roland De Boer gioca a destra e a sinistra è il nuovo entrato Overmars Siloi colpo di testa di Brolin utilissimo al centro campo eccolo De Boer che gioca da quest'altra parte Siloi con il sinistro in mezzo il colpo di testa l'inserimento la ribattuta di Apolloni per Espriglia che si allunga il pallone lo ribatte Blind ma sulla palla è pronto Brolin la data a Zola ancora Brolin Espriglia finta di Espriglia chiude in seconda battuta Reikard palla per Roland De Boer Ulida poi De Boer Reikard ancora Ulida Davids Overmars il nuovo entrato lo ferma benissimo mal tagliati Zola a cercare Melli il tocco lì dietro per Roland De Boer ancora De Boer Reikard Lidmanen Roland De Boer la finta di Pettersson l'inserimento di Ulida l'uscita di Bucci 20 minuti di gioco del corso della ripresa sbaglia rilancio Bucci ma Brolin colpisce di testa ora Blind Lidmanen Roland De Boer Lidmanen Pettersson colpo di tacco Ulida Sensini mischia furibonda e poi Paul che arriva a Bucci attacca testa bassa l'Ajax vedete il giovane Davids molto bravo Bucci stavolta il rinvio è lunghissimo Melli Asprilla con la punta del piede De Blinding falla laterale per la rimessa Tino Asprilla Zola Asprilla Zola maltagliati Brolin maltagliati si gira palla che carambola in profondità scatta Zola c'è Fran de Boer in vantaggio vedete Fran de Boer come tiene lontano l'avversario col braccio non la molla Zola il rilancio poi finisce per favorire Brolin va sul fondo Brolin effettua il cross il colpo di testa di Blin la palla è fuori per Kripp prova a destra sul fondo e c'è deviazione con calcio d'angolo per il Parma fischia il pubblico che non se n'era accorto nemmeno noi per la verità 22 minuti di gioco della ripresa calcio d'angolo per il Parma sullo 0-0 con l'Ajax Capolloni anticipato millimetricamente poi il pallone fuori dall'altra parte ed è angolo ancora Capolloni è stato anticipato all'ultimo istante è ancora Zola che viene a battere per quest'altra parte anche Sensini in avanti con Capolloni colatissima l'area parte il cross di Zola stacca Sensini viene però anticipato da Overmars non la molla buon momento per il Parma Krippa Zola Aspria Guizzo Cross Belli Zola ah che dribbling viene fermato azione goal del Parma ovazione del pubblico e contrattacco dell'Ajax immediatamente fermato da PIN poi Brolin ancora i lanceri Clint Overmars serie di finte al centro Littmannen arriva Ulida fermato ancora Littmannen fermato anche il suo tiro Reikard largo a cercare Pettersson ma è una grande battaglia Ulida Reikard largo per Overmars Overmars finta ma sul fondo il cross a Molloni e poi il contrattacco del Parma gara vivacissima straordinariamente vibrante ecco il contrattacco Aspriglia Aspriglia allunga la balcata Aspriglia in area un dribbling ancora sempre Aspriglia bisogna darla Aspriglia Littmannen Pettersson attenzione Demitz Overmars giocatore velocissimo fuori ispiratore con il sinistro sbagliato ma il pallone viene allontanato da Polloni a porta sguarnita mille emozioni in questa gara Littmannen viene fermato da Polloni ma mi sembrava in posizione irregolare ecco che rivediamo Venet Devitz sbuca Littmannen ed Apolloni lo anticipa ma forse era in fuorigioco era in fuorigioco forse il giocatore dell'Ajax si prosegue ancora con l'Ajax in avanti il pallone in profondità Bucci 25 minuti di gioco della ripresa 0 a 0 e rivedisco ancora che tutto si potrà dire ma non che questa sia una partita da 0 a 0 perché veramente è un match pieno di emozioni e di occasioni da una parte e dall'altra Devitz Ping Zola Aspria e vedete con che facilità salta gli avversari ancora Aspria cambia marcia gioca su Krippa tocco fuori per Brolin e lancio di Brolin intuito da Devitz ora Ulida va a chiuderlo Brolin c'è irregolarità calcio di punizione per l'Ajax altra sostituzione del file dell'Ajax esce Devitz entra in campo Van Vossen con la maglia numero 15 giocato molto bene nel corso del primo tempo ora ci sono ancora degli spostamenti Van Vossen sulla sinistra ecco overmars sulla destra De Boer l'altro De Boer anzi di Pettersson di Pettersson rivediamo l'interazione molto bella il colpo di testa e arriva in corsa Pettersson finisce fuori di un niente di un niente destra per cercare il nuovo entrato Van Vossen sul fondo sul fondo chiuso angolo sale altissimo l'urlo dell'Olimpico in piedi Nevi a scala parte il tiro d'angolo colpo di testa di Melli la palla per Ulida ora il Parma è tutto indietro ancora il guizzo di overmars Zola su di lui il raddoppio di Crippa l'azione vincente il controattacco del Parma due contro due Melli e Aspriglia e Melli però sbaglia si era inserito anche da quest'altra parte Matricano controattacco con Littmannen largo a cercare De Boer parte il traversone troppo profondo si spegne a fondo campo non c'è un attimo di tregua in questa partita e nella precedente circostanza c'era stata un'ottima opportunità per il Parma che aveva trovato scoperto in avanti l'Ajax ma il suggerimento di Melli è stato intercettato Bucci Reikard il tocco all'indietro ora il portiere Van der Sar Siloi è impressionante l'urlo con il quale i 40.000 dell'Olimpico di Amsterdam accompagnano l'azione in fase di costruzione Siloi intercetta Crippa un buon pallone Rolin cerca Crippa trova Siloi Ulida aspriglia su di lui lo disturba Zola fermato a sua volta Peterson che ora gioca in posizione molto più arretrata il buon lavoro di Ulida il passaggio a Roland de Boer il lancio per Fanfors in fuorigioco fuorigioco e l'arbitro concede l'angolo ma il guardaline vedete ha la bandierina alzata ancora e bravo ora il signor Don si avvede della segnalazione del collaboratore che comunque è rimasto impietrito con la bandierina alzata a segnalare il fuorigioco e gli da retta Don molto bello e ancora il guardaline ancora con la bandierina alzata ora finalmente la bassa cambio nelle file del Parma il colpo di testa di De Boer la palla fuori i minuti di gioco 32 nel corso della ripresa il risultato 0 a 0 una sostituzione nelle file del Parma vediamo esce maltagliati entra Balleri Balleri è giocatore con spiccate attitudini offensive gioca da difensore esterno ma è bravo particolarmente quando viene avanti eccolo subito in azione con palla messa in fallo laterale dai difensori dell'Ajax vedete che gioca praticamente subito da alla destra Balleri Zola ancora Balleri Balleri Zola e sentite dalla panchina che urlano a Balleri dietro dietro trascinato dal suo istinto Balleri si è subito portato davanti ma ha un brutto cliente da marcare come van Fossen riparte l'Ajax Ulida Reikard Lidmanen Reikard Blint Van Fossen Reikard si spostano continuamente gli attaccanti dell'Ajax Blint Siloi Ulida Balleri cerca Spria va Spria in velocità con De Boer che riesce però a fermarlo Ulida Siloi Reikard destro profondo grande stacco da parte di Peterson poi Crippa palla fuori gara faticosissima 34 minuti di gioco della ripresa 0-0 di Siloi la rimessa di Blint l'impostazione a favore di Ulida Largo a cercare Overmars Peterson vedete molto a retrato Blint il coro dell'Olimpico di Amsterdam Van Fossen Crippa su di lui fallo di Crippa punizione Blint colpo di testa di Apolloni palla fuori lo scatto di Overmars il traversone la chiusura di Sensini la palla recuperata da Overmars poi dall'ottimo inserimento di Pin il lancio per Melli sbandiera la guardaline perché c'è un giocatore a terra ma l'azione prosegue Crippa Zola Crippa Crippa prova il destro ribattuto Peterson segnalazione del guardaline facendo di aver visto l'arbitro ma stavolta non intende intervenire e ora l'arbitro va presso il guardaline che aveva segnalato ripetutamente che un giocatore del Parma era rimasto a terra 36 minuti di gioco il guardaline vedete sta indicando un giocatore dell'Ajax e a terra e a terra Madrecano tutti col fiato sospeso cerca un cartellino l'arbitro cartellino giallo a Littmanen allora vediamo qui se riusciamo a capire qualcosa ecco avete visto sul fondo in effetti è stato Littmanen che ha colpito anzi Roland De Beurre che ha colpito da Trecano e qui però francamente l'arbitro forse avrebbe dovuto riprendere il gioco scodellando il pallone invece fa battere un calcio di punizione ma il gioco era proseguito a lungo colpo di testa intanto di Krippa di grandissima personalità il guardaline di destra dell'arbitro palla intanto giocata all'indietro da Peterson a favore di Frank De Beurre da questi a Blint intanto siamo giunti al trentasentesimo del secondo tempo il risultato è di 0 a 0 il lancio in profondità a favore di Frank De Beurre ancora per Overmars velocissimo parte il cross che si spegne però a fondo campo Overmars che vedete inquadrato non è sceso in campo fin dall'inizio perché è influenzato ma in questa scorso di partita in cui ha giocato ha dimostrato di essere dotato di un grandissimo spunto di velocità Aspiria Melli Siloi eccolo Overmars spostato a sinistra cambiano continuamente posizione soprattutto Overmars e Van Fossen Zola Ulida parte il suo traversone non ci sono problemi per Bucci ora le due squadre sono anche un po' stanche e vorrei ben vedere con il ritmo elevatissimo che è stato tenuto su un terreno molto pesante Bucci porta il pallone fuori dalla propria area di rigore e batte lunghissimo un pallone sul quale pronto Aspiria che però viene fermato da Siloi Riccardo Blin ancora Blin largo per Frank de Boer Blin ecco il passaggio per Ulida da questi a Reikard Overmars Overmars Reikard Siloi è diventata un po' più lenta ora la manovra dell'Ajax Frank de Boer Ulida Van Fossen Blin Siloi chiude bene il Parma Roland de Boer Siloi Ulida Ulida ancora indietro a favore di Frank de Boer con il destro e c'è il colpo di testa da parte di Valeri che forse è stato anche disturbato al momento dell'anticipo lascia correre l'arbitro e con Van Fossen parte questo traversone bello il colpo di testa di Sensini la palla è per Zola ora è per Melli lancio di Melli a cercare Aspriglia il colpo di testa di Siloi il tocco di Ulida la palla per Blind il suo destro profondo a cercare Van Fossen che mette in mezzo la finta di Pinn che con calma disimpegna a favore di Matrecano va Matrecano tocca a Brolin il lancio di Brolin Blind 40 minuti di gioco del secondo tempo 0 a 0 Littmannen Ulida viene davanti Frank de Boer il tocco è per Ulida il lancio largo per Van Fossen ancora indietro per Frank de Boer ancora più indietro per Blind Ulida Pettersson il rinvio di Balleri Sbilenko la palla è per Van Fossen puzza proprio Balleri che lo ferma molto bravo palla fuori per la rimessa di Frank de Boer Van Fossen Melli De Boer tocca per ultimo rimessa per il Parma minuti di gioco 41 nel corso del secondo tempo risultato di 0 a 0 gara intensissima ritmo un po' rallentato in questa fase finale l'anticipo bello di Blind che in qualche maniera poi riesce a dare a Van Fossen ancora Van Fossen ha ricevuto dallo stesso Blind tocco all'indietro a Siloi diventato difensore centrale ecco Ulida Reikard davvero ben organizzata comunque la formazione olandese la squadra di giovani c'è una irregolarità attenzione la conclusione di Pettersson è la risposta stupenda di Bucci tiro di Pettersson pericolosissimo dal limite ecco che rivediamo vedete Pettersson con il sinistro è una fiondata vola Bucci a toccare con la punta delle dita in angolo Bucci impeccabile la prestazione del numero uno del Parma il suo lungo rilancio il colpo di testa di Siloi Blind rimedia Fran de Boer la palla per Ulida comincia a spollare il pubblico dello stadio olimpico di Amsterdam Van Fossen tocco all'indietro a favore di Blind le ha provate tutte l'Ajax per venire a capo della resistenza del Parma ha confezionato parecchie occasioni da gol qualcosa ha rischiato anche ecco Belli Kripp Belli Zola c'è Brolich libero servito pallonetto a cercare e trovare Patrecano Patrecano sulla sua ala per Krippa fallo su Krippa da parte di Blind e siamo giunti al 44esimo meno qualche secondo Belli va Belli va Belli e ancora palla di Blind sono parecchio distanti dalla porta di Van der Saar ultimo minuto di gioco di questa intensissima partita che nelle due formazioni ancora ferme sul risultato di 0 a 0 Zola sentite gli urli in campo Zola lunghissimo dall'altra parte Balleri ancora Balleri dopo il tocco di Belli va Balleri lo bracca da vicino De Boer raddoppio dell'Ajax lo stesso De Boer porta fuori il pallone giocandolo su Littmannen De Boer sentito l'urlo del pubblico che si è strozzato il gol aveva intravisto la possibilità del contropiede la tifoseria dell'Ajax rimasta delusa da questo rallentamento dell'azione ecco Overmars pallone all'indietro tempo scaduto si gioca il recupero la palla è per Blin ora per Frank De Boer con il sinistro in profondità Balleri poi il pallone per Petterson centralmente per Ulida va Ulida ad allargare il gioco a beneficio di Overmars Overmars punta Zola punta anche Krippa mette in mezzo un pallone ribattuto palla fuori ancora per Petterson Petterson è un buon tiratore gira su Van Vossen Van Vossen cerca spazio lo trova in profondità si prepara al cross lo effettua Reikard in area Krippa allontana è una partita veramente intensa siamo quasi un minuto oltre il novantesimo Siloi Siloi per Overmars Overmars è chiuso bene da Madre Cano è veramente il Parma ha trovato un avversario formidabile stasera fortissimo l'Ajax così come era stato dipinto ma la formazione italiana ha saputo tener botto molto bene si è difesa con grande accortezza ha strappato 1-0 a 0 fino a questo momento che l'ha considerato risultato positivo il Parma ha avuto anche delle opportunità a proprio favore non è ancora finita a centrocampo Sensini all'indietro per Balleri largo per Zola va Zola a scaraventare a centro area il colpo di testa è di Siloi la palla la palla è per Ulida e sentite il consueto urlo dell'Olimpico Franky Rijkaard Littmanen chiuso ancora Littmanen Overmars la Overmars parte sua traversione la palla in area e termina a fondo campo contemporaneamente il fischio finale dell'arbitro che sanziona lo 0-0 al termine di una partita molto ben giocata dalle due formazioni è mancato solo il gol in questa gara Parma e Ajax rimandano alla questione della qualificazione delle semifinali di Coppa delle Coppe alla gara di ritorno che si disputerà al Tardini tra due settimane gara molto intensa bellissima nel corso del primo tempo anche nella ripresa ben giocata da parte delle due formazioni ora a centrocampo i giocatori si scambiano i saluti di rito è stata una gara molto corretta ben diretta dall'arbitro Don 0-0 ora linea allo grazie grazie